Ciao a tutti! Qualche giorno fa si è concluso il campionato di Serie B con la finale dei play-off fra Venezia e Cremonese, vinta dal Venezia, che raggiunge in Serie A Como e Parma che si sono qualificati durante il campionato. Per quanto riguarda la Reggiana, un buon campionato, tutto sommato, ci siamo salvati senza grossi patemi, anche se a un certo punto abbiamo temuto che le cose si potessero complicare, poi una serie di vittorie che ci ha tolto dall'impasso. Poi, a dire la verità, ci siamo salvati alla terza ultima di campionato e con la vittoria contro il Modena, che ci ha permesso di essere tranquilli e matematicamente salvi, abbiamo visto in lontananza, però l'abbiamo visto i play-off. Cosa che sarebbe potuta accadere nel caso avessimo vinto contro la Samp, cosa che purtroppo non è successa e quindi ci siamo dovuti accontentare di quello che è stata la salvezza netta senza grossi patemi. Quindi, almeno, non ci siamo dovuti salvare l'ultima giornata, che è già tanta roba. Per quanto invece riguarda la Reggiana del futuro, ci sono da fare già dei discorsi molto importanti, anche perché ci sono diverse persone che se ne sono andate, compreso Goretti che ha deciso di andare a Firenze a gestire il mercato e il reparto sportivo della Fiorentina, ma d'altronde non si può dire più di tanto, perché la Fiorentina è una squadra storica, una squadra che ha fatto la storia del calcio, che ambisce a risultati certamente molto elevati, perché comunque può giocarsela con le altre squadre per arrivare in Coppa, nelle Coppe europee. Mentre, dall'altra parte, abbiamo Nesta, che ha fatto anche lui le valeggine, è andato a Monza ad allenare il Monza. Questa cosa l'avevano già saputa appena finito il campionato. Si parlava del fatto che Nesta era sotto l'occhio vigile del Monza, che l'aveva, insomma, adocchiato per essere il prossimo allenatore del Monza, cosa che appunto è successa ed è stata confermata in questi ultimi giorni. D'altronde la Reggiana non ha nulla da dire, nel senso che anche in questo caso il tecnico ha scelto la Serie A in una piazza che non è particolarmente prestigiosa come Firenze, però, insomma, tutto sommato è una società ambiziosa e, perché no? Cioè, se uno vuole far carriera come Nesta, credo che il Monza sia un buon trampolino di lancio. La Reggiana ha fatto il suo pezzo, ha gestito una squadra nuova, con tantissimi elementi nuovi, lo sappiamo benissimo. Credo che dalla Serie C sei o sette siano rimasti anche a farsi la B, quindi avevamo Cigarini, Cavasci, Rozzio, che ancora anche loro sono tutti e tre attualmente nella Rosa, Valera. Insomma, non è che aveva un gruppo compatto, aveva un gruppo da riformare, perché tantissimi innesti, tantissimi giocatori nuovi. Poi, per carità, c'era del talento nella Reggiana, c'erano dei giocatori che hanno dato tanto a questa squadra, così come Bianco, così Portanova, Mercandalli, ha fatto le sue prestazioni, insomma, Romagna, Pieragno, insomma, dei giocatori che purtroppo non ci saranno più nel prossimo stagione, però hanno dato veramente qualcosa in più alla Reggiana. Iniziamo a guardare chi va e chi viene a un certo punto. Chi viene ancora non è ben chiaro. Se non, sappiamo che è il nuovo DS Pizzamenti, che era un collaboratore di Goretti, quindi, insomma, l'esperienza ce l'ha, la conoscenza della squadra ce l'ha, ha già lavorato a Reggio, quindi, insomma, vedremo quello che saprà fare. Poco da dire su di lui. Per quanto riguarda, invece, la Rosa, andiamo a guardare i portieri, che probabilmente è uno dei reparti dove possiamo stare più tranquilli, perché abbiamo Bardi e Alex Posito che sono praticamente confermati, quindi il reparto portieri non avrà bisogno di grossi apporti, perché Satalina e Motta andranno via, ritorneranno al suo suolo, però, insomma, il portiere titolare ce l'abbiamo, abbiamo anche Sposito che, comunque, per quanto mi riguarda, può essere tranquillamente un buon secondo, quindi andiamo anche bene. Per quanto riguarda la difesa, ci saluterà, ci hanno già salutato della verità, Mercandalli, che ritorna a Genova, Pajas, Pajas, e Sminkin, Sminkian, come si chiama, a Frosinone, tornano a Frosinone, Romagna e Pieragnolo, come detto, tornano a Sassuolo, anche perché, dato la situazione del Sassuolo che è andato in Serie B, questi due giocatori al Sassuolo, in questo momento, fanno molto comodo, perché anche il Sassuolo dovrà ristrutturare completamente la squadra, e quindi giocatori che sono di buon livello per la Serie B, potrebbero addirittura, Pieragno, forse giocare anche in Serie A, però, insomma, sono giocatori che, per una squadra che deve fare il campionato di Serie B, come il Sassuolo, sicuramente saranno molto utili. e rimangono, invece, Rozzio, Stramacchioni, che viene dalla Juventus Next Gen, è stato dato, se non mi ricordo male, è stato preso a gennaio, farà un altro anno, quindi, insomma, ce l'abbiamo. Samprisi, Fiammozzi e Libutti. Libutti, fra l'altro, è uno dei giocatori che era anche in Serie C, come Rozzio. Rientra Cavallini, che ha giocato, che era in prestito, al Forger e Cararesi, ha fatto una buona stagione là, vediamo quello che può combinare in Serie B, sempre che poi, ovviamente, si decida di tenerlo. Però, come abbiamo visto, qui mancano almeno 4-5 giocatori in difesa, che non sono pochi, soprattutto perché i mercandali Romagna e Pieragnolo hanno fatto una buona stagione, quindi andare a sostituire non sarà semplice. Certamente poi vedremo quello che saprà fare i pizzamenti. Per il centrocampo, in questo caso, la situazione non è proprio rosia, perché vanno via Melegoni e Portanova, ritorno a Genova, Crigno torna al Venezia, Bianco, ahimè, torna a Firenze, perché comunque il ragazzo è giovanissimo, ha 19 anni, giocatore di prospettiva incredibile, secondo me sarà un titolare nazionale nei prossimi anni, però purtroppo ce lo siamo goduti per poco. E rimangono sicuramente Kabashi, Cigarini, Vergara, che non ha mai giocato, però speriamo di godercelo, anche perché è stato prolungato un anno il contratto con il Napoli, il prestito con il Napoli, e Reinhardt, che è stato preso a gennaio nel mercato invernale, Girma, che purtroppo è infortunato, e questo aiuta a tenerselo, perché comunque il giocatore svizzero era molto ambito da diverse squadre, ha fatto un buon campionato, ma in modo di vedere ha un tipo di gioco che si potrebbe sposare molto bene per quello che riguarda la Serie A, ed è un giocatore ambito, in effetti molte squadre l'hanno tenuto sotto controllo. Abbiamo un rientro, invece abbiamo un'integrazione in prima squadra da Shibu, non so come si dice, le mie pronunce sono quelle che sono, che viene dalla primavera, un giocatore di buona prospettiva, ha fatto delle buone partite in primavera, quindi ci aspettiamo insomma grandi cose da lui, anche perché insomma, anche in questo caso, purtroppo il centrocampo andrà rivisto in maniera importante, per quanto invece riguarda l'attacco, che forse magari qui non c'è da lavorarci più di tanto, perché sicuramente andrà via Ariste, Antiste scusate, torna a Sassuola, anche lui sicuramente sarà utilizzato dalla squadra nero-verde per fare il campionato di Serie B, o comunque per cercare di acquistare un altro giocatore, rimane comunque Gondo, che è stato il titolare quasi per tutta la stagione, Valera è in dubbio, è in dubbio che possa andare in una squadra di Serie C, anche perché abbiamo visto che in Serie B è giusto giusto uno che possa subentrare, non ha certamente la qualità e la quantità, la quantità a volte, se arriva in campo negli ultimi dieci minuti, ci può stare, può anche fare male, però è anche vero che un giocatore di questo genere, credo sia più adatto a giocare in Serie C. Poi abbiamo Alex Blanco, per un altro anno, abbiamo Conocuo, che il Bologna ce l'ha concesso per un altro anno, e Vido, che anche lui ha giocato praticamente mai, quindi vedremo come gestirlo. In tal senso, i due reparti più problematici saranno sicuramente la difesa, il centrocampo, per quanto riguarda l'attacco con rientro di Vido, insomma, l'inserimento dei giocatori che abbiamo già, insomma, credo che grossi problemi in attacco non li avremo, però è chiaro che è più importante il centrocampo, perché da lì passa tutto il gioco e anche la difesa, che spesso e volentieri quest'anno ci ha un po' fatto tremare, perché comunque di errori ce ne sono stati tanti, abbiamo avuto tanti problemi, sulla difesa si può lavorare sicuramente meglio, perché quest'anno non è stata impeccabile, abbiamo preso dei gol che potevamo assolutamente evitare, Mercandali, per quanto abbia delle caratteristiche molto interessanti, a volte faceva delle papere incredibili, per cui sicuramente i due reparti dove saremo più attenti, dove andremo a guardare più i nuovi ingressi, sarà appunto la difesa al centrocampo, per quanto riguarda l'attacco, credo che con uno o due innesti, anche non propriamente di alta qualità, si possa, veramente stare tranquilli per quanto riguarda la Serie B. Questa è la situazione attuale della Reggiana, a breve, a breve, fra 15 giorni, 15-20 giorni, inizierà, anzi, fra 20 giorni, inizierà il calcio mercato e da lì capiremo quali saranno le prospettive di questa Reggiana anche nel prossimo campionato. Per ora è tutto, speriamo in bene perché il calcio mercato ci riveli e ci regali delle gioie importanti anche perché si incomincia a sognare appunto nel calcio mercato. Detto questo vi saluto, buona giornata e forza Reggiana!